Assessore, il Festival del Cinema di Salerno, un grande appuntamento ad ingresso libro. Sì, un grande appuntamento, un appuntamento storico, perché ricordiamo che siamo alla 72esima edizione, uno dei pochi festival, se non l'unico festival di Salerno che è su Wikipedia, quindi questa è una curiosità veramente importante, perché entrare in un circuito di questo livello storico vuol dire effettivamente portare avanti un pezzo di memoria. Fu uno dei primi festival a introdurre il 16 mm dal 35, quindi per la grande distribuzione e per la più facile distribuzione. Queste sono cose che l'amministrazione comunale non dimentica, anzi vuole tenere fortemente nella memoria per portare avanti la cinematografia a Salerno. Sì, questo è un dolore che ha colpito tutti noi di Salerno, perché quando chiude un'attività commerciale, soprattutto un'attività culturale, perché il cinema è cultura, è un grande dolore, un grande dispiacere. Ovviamente c'è anche da fare la riflessione dei grandi cinema, dei multisala, che purtroppo mangiano i piccoli cinema, quelli che ancora resistono, come il cinema Teatro San Demetrio e il cinema Fatima. Dobbiamo stare ancora di più dopo questo episodio, ancora più vicini a queste realtà. Un impegno per valorizzare l'esperienza cinematografica a Salerno in un festival importante che è diventato ormai un appuntamento storico, diceva l'assessore Giordano. Certo, fare una manifestazione del genere che ha ben 72 anni non è una cosa facile, anche perché ci prendiamo delle responsabilità che poi cambiano nel corso degli anni e con tutte le difficoltà oggi, sia burocratiche, sia operative, effettivamente è stato molto elaborato. Comunque è una cosa normale, siamo abituati e quindi speriamo che anche quest'anno a dare i suoi risultati. Una cosa importante, bisogna dire, questo perché rimane sempre la stessa impostazione, è che noi diamo spazio a tutti. Noi non selezioniamo questo film sì, questo film no. Tutti coloro i quali hanno inviato il film, piccolo o grande che sia, praticamente avrà già un premio, perché praticamente noi lo proietteremo in pubblico. Immaginate che una vostra poesia venga praticamente declamata da un grande personaggio. E vedere il proprio film, le proprie immagini su un grande schermo, credo che questa è la gratificazione già per tutti. Quindi questo è importante, noi facciamo questo sì, questo no, questo è buono e questo è cattivo. E poi questo logicamente per noi porta a un grande lavoro, non solo di selezione, ma anche di organizzazione interna. Però ci siamo riusciti, almeno per il momento, spero che poi faremo il consuntivo, ma credo che il momento dovrebbe andare tutto in ordine.